Eccoci, ben trovati amici delle spettatori, l'informazione di Tenebrea sul canale 110. E siamo arrivati a marzo, il tempo passa, ma sono due anni che ci stanno martorizzando, ci stanno proprio distruggendo psicologicamente, oggi siamo al sesto, al settimo giorno di guerra, ma abbiamo dietro due anni di pandemia, davvero è una situazione psicologicamente importantissima, anche perché è incredibile, questo mondo ha sempre più facce, uno pensa una cosa ma c'è subito quello che ti dice guarda che non è così, è sempre il rovescio delle due medaglie anche in guerra, ma di questo ne parleremo fra un istante, invece diciamo che è arrivato marzo ma la primavera almeno per ora non c'è, perché queste due giornate oggi e domani saranno abbastanza fredde, perché? Perché arriva l'invasione dalla Russia, dai paesi freddi, dagli Urali, insomma arriva quest'aria fredda e già per questa sera, martedì sera e mercoledì sera è previsto un abbassamento notevole della temperatura, e pensate che in alcune zone del sud Italia, che so vi posso dire nevica al Lago Negro, a me è capitato di restare bloccato al Lago Negro qualche anno fa in montagna e abbiamo visto tante tante pene, quindi nevica in alcuni posti, da noi chiaramente non dovrebbe nevicare, anche se quando si tocca lo zero e c'è anche un po' di pioggiarella come oggi, che serve sempre, un po' di pioggia serve sempre, ci mancherebbe altro, a quel punto abbiamo la possibilità che nevichi, quest'anno non ha nevicato, è chiaro che pensiamo con grande dispiacere a quello che sta accadendo ad appena un migliaio di chilometri dai confini dell'Italia, parliamo della guerra in Ucraina, andiamo ad affrontare questo discorso, vi dicevo che in tutte le cose ci sono le due facce della medaglia e ora questo si sta verificando, perché naturalmente c'è il presidente russo che è assolutamente assediato, è chiaro che non sarà così facile convincerlo, perché più è con le spalle al muro e più tirerà calci, come si suol dire. E allora oggi è arrivato un comunicato dell'ambasciata italiana della Russia, ora non voglio leggervelo tutto, anche perché è chiaro, sarebbe un modo di vedere la situazione completamente diversa, dice dichiarazione del Ministero degli Esteri della Federazione Russa sul ruolo dell'Unione Europea nei fatti in Ucraina, e spiega tutto, dice per molti anni l'Unione Europea, mascheratasi da pacificatore, ha finanziato il regime di Kiev, eccetera, eccetera. Devo dire che questa posizione della Russia non è l'unica, per esempio sono arrivate tantissime notizie e comunque comunicati, per esempio da Cuba. Allora qualcuno è tornato indietro alla famosa questione, c'era Khrushchev e Kennedy, ricordate, negli anni Sessanta, quando l'America, avendo paura che i russi mettevano le basi americane a Cuba, a 40-50 km dagli Stati Uniti, si rischiò davvero che scoppiasse la Terza Guerra Mondiale, con quella presa di posizione fortissima, con le navi che fecero il blocco davanti a Cuba e fortunatamente la cosa andò bene. Quindi in ogni occasione ci sono sempre dei modi di vedere le cose differentemente. Ora difendere Putin è impossibile, ci mancherebbe altro di fronte a delle notizie che arrivano particolarmente drammatiche. Per ora inizia anche la guerra psicologica, la guerra dei comunicati, qualcuno cerca di spiegare il perché, dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti che onestamente sono sempre stati un po' anche loro aggressivi, noi siamo alleati quindi non ci sono dubbi per noi, però questa situazione io credo che dovrebbe essere portata anche nei colloqui perché se si va avanti, come si dice, duro con duro, non fabbrica muro. Intanto tutti i paesi stanno andando avanti con delle dichiarazioni ufficiali, oggi per esempio il Presidente Draghi, vi faccio sentire un minuto non di più, il Presidente Draghi nel Parlamento ha detto è un'aggressione, ci siamo messi d'accordo con tutti e anche l'Italia si è dichiarata pronta a dare una mano. Speriamo di non esagerare anche in questo. Sentiamo il Presidente Draghi.